Di sere sono un bari seconda Ti prego tira Tutto a merito di Verratti Ma che cazzo è successo Eh si C'ha la colla nelle scarpe Il mastice Come cacchio si dice Immaginatevi lui al FU Champions Dai tira Ma che cazzo stai dicendo Io non so neanche tenere un mano Un joystick in mano Su Fortnite Ma stai tenere qualcosa Sì le tette di Di nuovo No La parata No Ti giuro che la parata Non può averla sbagliata Madonna Poco t'ho conto Citrusca Coco baia Madonna Oggi scatta la denuncia Mi denunciano per Sì ma ciao C'è il programma di registrazione C'è il programma di registrazione Che con le onde dell'audio Sta impazzendo Ma che apertura Che mi sta facendo Madonna Che due coglioni Portavoce Neymar Neymar Cazzo ci fai lì Sei con noi Non ha ancora capito Come funziona il calcio Neymar No però abbiamo scelto Cioè dovevo scegliere meglio Dovrebbe scegliere Bebe Che co No Che co Ti lancio la colla E muori Sotto una colla Allo pari te Merda In alto a destra Coglione Coglione Tipo lo stiamo insuttando Ma Ecco Oh adesso Questa Almeno Due gol Oh ancora PSG Mi avete rotto il cazzo Merda Spacchiamoli tutti Spacchiamoli tutti Serapeva 18 Le vincevamo Ma scusa Chi è che c'è in porta Carius Che cazzo Patti Te lo giuro Io l'avevo passata Era bellissimo Ma io te lo giuro L'ho rinviato Ma dai L'ho rinviato dritto per dritto Guarda Oh Cavani con Oh Cavani con noi Non era così forte Oh 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 Tira No Fuori gioco Tira domani E' fuori gioco Non è che se tiro prima Oh Merda Che palle Mi sta chiamando Mia mamma Sì Pronto Ciao Sto giocando Contro se Con seme Non posso Tagli le cuffie Ascolta Ascolta Stai intendo Pia Vero Io ce la rado Fuori Cazzo Dai Però almeno Questi Non tutti Ti rientrano Aspè Arrivata Elena Devo aprirle Aspè Eccolo Passa Sì Vabbè Mi spatti I giocatori Per me E' un maricon E' fallo Sul portiere Questo Mi piace Mi piace Mi guarderò Un video Almeno 200 Un video Pro club Con lui E' il mio Grafico Che è un altro Pazzo Un altro Ok 200 Ragazzi Vi ricordo Che a breve Il mio amico Aprirà il canale Quindi Passerete da lui Ci vediamo Presto Trovate qui sotto Su Instagram E noi Ci vediamo Al prossimo Bella Bella